Il video di oggi sarà la guida definitiva al lavoro da casa. Magari ti stai chiedendo perché dovrei dare ascolto a uno che si chiama Il Peggiore, presto detto, in questo momento mi trovo a Palermo, sono ostaggio della mia famiglia, però in realtà vivo in Germania dove lavoro come consulente e ho passato gli ultimi due anni su un progetto che è stato interalmente portato avanti da remoto. Ci tengo a condividere quella che è la mia esperienza in questo video, ma bando alle ciance, sigla... Sì, proprio tremendo, tremendo, sei tremendo, 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 un amabile paraculo tremendo, sei, sei tremendo. Quando si comincia a lavorare da casa si ha subito la tentazione di rimanere a letto più a lungo, di poltrire più a lungo ed è normale che sia così perché di fatto uno sa che va a risparmiare il tempo per raggiungere l'ufficio e allora perché non approfittarne e dormire di più? Ecco, sbagliatissimo. Il primo consiglio che sento di dare è proprio quello di mantenere una routine come se invece si andasse in ufficio. Quindi continua a svegliarti presto e invece impara a utilizzare in maniera più intelligente il tempo guadagnato. L'esercizio fisico è un ottimo esempio. Io in genere opto per una passeggiata mattutina o per una piccola corsetta. Mi rendo conto che in questo periodo di clausura forzata non è possibile, quindi va benissimo anche un po' di esercizio tra le mura di casa, però effettivamente l'attività sportiva è una delle attività migliori che si possono svolgere di prima mattina. Un'altra cosa che potresti fare è prestare più attenzione alla colazione, magari impiegare quel tempo che hai guadagnato per preparare una colazione degna di nota. Un errore molto comune è quello di non ritagliarsi un'area specifica all'interno dell'ambiente domestico dove effettivamente poter lavorare. Chi comincia a lavorare da casa in genere diventa un po' un'anima in pena, si muove dal letto al divano alla scrivania alla poltrona, no? Senza trovare pace. Ecco, un altro consiglio che mi sento di dare è quello appunto di ritagliarsi un'area specifica per lavorare. La mia area di lavoro, per esempio, si vede in diversi miei video berlinesi, è la scrivania ed è la scrivania dove praticamente ho tutto quello che mi serve. La mia configurazione personale, ma chiaramente dipende da persona a persona, include sicuramente il computer portatile, poi il secondo schermo, raccomandatissimo, cuffie, possibilmente con un microfono integrato in modo da poter fare le chiamate, le videochiamate con più facilità, cellulare, agenda, acqua e tazza di caffè. Questo è il mio setup personale, però appunto toccherà a te capire cosa effettivamente ti serve per ricreare un tuo ambiente lavorativo all'interno dell'ambiente di casa. Il top assoluto poi è lo standing desk, ma vi rendo conto che non tutti vogliono comprarne uno. Cos'è lo standing desk? In sostanza è una di quelle scrivanie che è possibile alzare. È utilissimo perché di fatto ti permette di passare più tempo in piedi e non stare tutto il tempo seduto. E questo è fondamentale perché lavorando da casa il carico di stress sulla schiena e sulle spalle è notevole. Lavorando da casa è facile perdere la percezione del tempo e ritrovarsi seduti alla scrivania per diverse ore, il che sicuramente non è molto salutare. Il fatto di avere uno standing desk può aiutare in questo senso. L'importante è ritagliarsi delle pause regolari. Chiaramente sta a te capire ogni quanto ti servono e chiaramente prova anche a non abusarne in modo da non sacrificare la produttività. Il fatto sta che le pause ti serviranno perché, ed è anche il motivo per cui suggerivo di fare esercizio di prima mattina, lavorando da casa finirai col muoverti molto di meno rispetto a quando andavi in ufficio. È quindi importante tenere d'occhio il tempo, assicurarsi di avere delle pause regolari e fare quanto più movimento ed esercizio possibile, chiaramente nei limiti di quello che è possibile fare a casa. E visto che parlo di pause, non posso che parlare anche della pausa pranzo. Il consiglio, così come per la colazione, è quello di ritagliarti il tempo di preparare un pranzo decente, sano, a casa. Ordina online il meno possibile, non ti dico di non farlo, però fa che sia l'eccezione e non la regola. Questo ti permetterà prima di tutto di staccare dalla routine lavorativa, perché comunque ti prenderà il tempo per cucinare e questo già ti alleggerisce un po' la testa. Ti darà modo di cucinare qualcosa di sano, un bel piatto che decidi tu in base ai tuoi gusti e soprattutto ti darà anche modo di risparmiare, perché di fatto cucinare a casa è molto più economico che ordinare online oppure andare a mangiare fuori. Non ti dico quindi di non ordinare online o di non mangiare fuori, però limitalo il più possibile e prenditi invece il tempo per viziarti un pochino con un buon pasto sano. Hai un grande vantaggio non andando più in ufficio, quello di non dover più mangiare porcherie in giro, mangiare cose all'ultimo minuto, quindi sfrutta questa occasione. Venendo invece a quella che potrebbe essere la giornata tipo, la raccomandazione che ti faccio è quella di ritagliare i primi minuti della giornata per vedere le mail, vedere gli impegni della giornata e capire un po' come puoi distribuire il carico di lavoro, soprattutto vedere un po' quali sono le cose più urgenti da fare e più o meno immaginare quanto tempo dovrai dedicargli. Quello che ti consiglio di fare a questo punto è anche di utilizzare una Kanban Board se è possibile, ci sono applicazioni specifiche. Per quanto riguarda Kanban Board e applicazioni ho già trattato questo argomento in diversi altri video della mia playlist sull'organizzazione e sulla produttività, quindi ti raccomando di andare a vedere quei video, te li linko anche sopra. Quello che ha per anni caratterizzato lo smart working è una sorta di senso di sfiducia che alleggia sul dipendente, sul lavoratore, che si crede non faccia nulla per tutta la giornata. Ecco, il modo migliore per vincere questo pregiudizio, che in molti casi è assolutamente sbagliato, perché poi effettivamente gli studi dimostrano che chi lavora in smart working in genere è molto più produttivo rispetto a chi lavora in un ufficio tradizionale, ma comunque per vincere questo pregiudizio il modo migliore è quello di rendere trasparente il proprio lavoro. Per rendere trasparente il proprio lavoro è possibile adottare diversi accorgimenti sia a livello individuale che a livello di team. A livello individuale, se già non lo fai, per esempio, potresti rendere visibile il tuo calendario in modo da permettere ai colleghi e superiori di vedere appunto come è strutturata la tua giornata, cosa stai facendo, quali chiamate stai prendendo parte e via dicendo. Un altro accorgimento appunto che si può utilizzare, però in questo caso a livello di team, si può passare appunto alle Kanban board, a cui ho già fatto riferimento. Se hai già una qualche dimestichezza con la metodologia agile, conosci già i daily stand up, che sono dei brevi meeting giornalieri che in genere si utilizzano all'interno di un team per tenere tutti informati su qual è lo stato delle attività su cui si sta lavorando. Ognuno individualmente dice praticamente quello che sta facendo e come stanno procedendo i lavori, se ci sono difficoltà e cose di questo tipo. Chiaramente anche aziende che non lavorano seguendo appunto la metodologia agile possono sicuramente integrare meeting regolari di questo tipo per facilitare appunto la trasparenza. Per quanto poi riguarda proprio la vita all'interno di un team, il consiglio che posso darti è quello di chiedere ai tuoi colleghi o comunque alle persone con cui devi relazionarti più di frequente quali sono le loro preferenze in termini di comunicazione. Perché è importante? Perché chiaramente ognuno ha le sue preferenze personali. Molti potrebbero pensare che sia una cosa di poco conto, in realtà non si tratta per niente di una cosa di poco conto perché adesso che non sei più in ufficio e che quindi vengono a mancare tutti quei momenti sociali di interazione con i propri colleghi, è importante cercare di avere una comunicazione ottimale con la gente con cui si lavora. Parlando di comunicazione non posso che fare anche un accenno alla gestione dei conflitti. Il conflitto infatti è una cosa inevitabile in linea di massi, ma sicuramente il lavoro da casa non agevola. Non agevola perché innanzitutto è più facile che ci siano incomprensioni con i propri colleghi e poi in genere, essendo la comunicazione un pochino più ostica, è più facile che effettivamente si vengano a creare situazioni di tensione con la gente con cui si lavora. Cosa fare in questi casi? Prova a fare un passetto indietro, dà il beneficio del dubbio all'interlocutore con cui hai qualche tensione e se proprio c'è bisogno magari pianifica una chiamata a parte per chiarire le incomprensioni e stemperare un pochino i toni. Lavorando da casa chiaramente vengono meno le distrazioni causate dai colleghi e lo dico nel massimo rispetto dei miei colleghi, però è innegabile che in genere avere gente attorno non agevoli la produttività. C'è però un problema. Lavorare da casa non necessariamente vuol dire che non ci saranno distrazioni. Ce ne saranno di nuove o di diverse, ma ce ne saranno sempre. Qui faccio riferimento per esempio a chi convive o a chi ha bambini piccoli in giro per la casa. Difficoltà di questo tipo sono difficoltà nuove per chi era invece abituato a lavorare in ufficio. Come risolvere queste nuove distrazioni? Fa in modo che passi il messaggio che il fatto di essere a casa non vuol dire che tu non stia lavorando. Quindi questa è una premessa che devi mettere in chiaro. Quest'ultimo consiglio chiude il video di oggi. Penso di non avere molto altro da dire sul tema smart working, lavoro da casa. Se ho dimenticato qualcosa o se hai qualche curiosità, non esitare a scrivere un commento qui sotto. Risponderò il prima possibile o sui commenti o magari con un prossimo video dove andrò ad approfondire magari qualche tematica in particolare. Come indicazioni generali penso però che questa guida sia effettivamente abbastanza completa. Spero sia stata di tuo gradimento. Spero che la mia esperienza possa esserti utile. Per il resto ti invito come sempre a iscriverti al canale. Magari anche a seguire gli altri video della playlist dedicata a organizzazione e produttività di cui questo video fa parte. Da Palermo per ora è tutto. Spero che il prossimo video sia da Berlino ma oramai ho smesso di credere nel ritorno a casa.